Sei pronto? Uno, due, tre, ciac! Allora, caro magnifico rettore, oggi è stata una giornata molto stimolante. Abbiamo visto questa bellissima città universitaria che è su 1.200.000 metri quadrati, quindi sono 120 ettari di civiltà giovanile e di studi propedeutici per un futuro migliore per tutta la campagna. Lei che cosa ci dice a proposito di questo? Che nella vita per lei è successo bisogna avere passione, qualsiasi tipo, e chiaramente anche la passione dello sport, la passione calcistica è un motore importante. Aggrega i giovani, li orienta, quindi la sua presenza oggi qui per noi è motivo di soddisfazione, l'abbiamo potuto far vedere il nostro campus e anche la possibilità di poter immaginare i percorsi comuni. Questa è la speranza per dare opportunità in più ai nostri giovani, che è l'unica vera forza della campagna. Il mio dovere è quello di compattare tutta la campagna, cioè di portare il senso del Napoli, il senso di appartenenza all'unica squadra della campagna che milita in Serie A e in Europa da sei anni, ovunque sul territorio. Quindi questa è la mia prima visita che faccio fuori dal territorio cosiddetto napoletano, considerandolo anche questo come un territorio napoletano. E quindi un territorio da unificare, da compattare, tutti per la stessa identica causa. L'università è per natura e contro gli steccati, quindi noi siamo per unire, non vedo contrapposizioni, poi ognuno avrà nel proprio cuore, avrà la propria passione. Il Napoli è un grande messaggio, il Napoli Calcio si è fatto valere, come giustamente ha detto lei, in Italia e nel mondo, e così può avere un effetto traino anche rispetto ad altre componenti. Poi per noi l'importante è dare un'opportunità ai nostri giovani, se hanno voglia di aggregarsi intorno a dei progetti, poterci lavorare, per noi questo è quello che ci interessa. Poi la propria fede ai calcisti, ognuno coltiva la propria, e ovviamente a partire da quella del territorio. Lei dice bene, ma è il mio compito fare l'ambasciatore del calcio Napoli ovunque, cominciando dal territorio campano, ed ecco perché è la mia visita oggi qua, che proseguirà anche in altre parti della regione campana. Lei sta presente, la consideri casa sua? I nostri 40.000 studenti, il nostro personale docente tecnico-amministrativo, è un suo difuso, indipendente dal fatto che poi abbiamo anche altre persone. Speriamo di portarli allo stadio, sì, 40.000 studenti, e vedere il calcio dal vivo, perché vederlo dal vivo è diverso che vederlo in televisione. Ci impegneremo. Va bene? Ok. Grazie, auguri per questa bellissima struttura. Grazie.